15,450 per Jovcev, pagato bene, pagato giusto, la grande sfida ora contro i due rumeni per succedere nell'Albo d'Oro ai cinesi, grandi assenti dopo i mondiali di Harus, un po' dei desaparecidos in assoluto agli appuntamenti agonistici post mondiali. Mistor numero 2 dell'attuale Romania. Prima era caduta, ecco l'esercizio che aveva tradito la Ferrari nel concorso molto più di Harus. Salto indietro l'occupato con un giro d'avvitamento, Kessling solo mezzo ma lei dà ferma, questo dà la rondata, sicurissima, indemoniata la Mistor. Ecco qui emerge la grande scuola rumena Latrave, grande sicurezza in tutti gli elementi anche quando, come in questo caso, c'è stato un leggero sbilanciamento. Numero 2 rumena alle spalle di Itz, Baza. E' un po' più completa della nuova Romania, Mistor. Sta tornando pian pianino grande, molto bella questa ulteriore combinazione, salto gamba divaricata, spaccata diciamo, seguito immediatamente da un salto raggruppato. E adesso la parte finale, un flick flag divaricato, un secondo flick flag e il doppio salto ben addomesticato, malgrado stessi retrocedendo pericolosamente. Grazie. Grazie a tutti.